Susan Ortega e Evan Baxter Fredona U, Sport, Dallas Goleman, Meteo Ecco a voi la squadra numero uno di Baffalo Buonasera e benvenuti ai Winner's News Sono Susan Ortega E io sono Evan Baxter Vediamo le notizie di stasera Poteva scoppiare uno scandalo oggi nel dipartimento di polizia di Baffalo Quando il sindaco... Quando il sindaco è coltato... Quando il sindaco è coltato della polizia Di rispondere con una dichiarazione pubblica Scusate, c'è qualcosa che mi sento strato Portategli subito del... Ma quanto pare il mio nuovo collegato Senti di bicchiere d'acqua Oh, ecco, scusate Passiamo alle altre notizie Il primo ministro svedese è venuto in visita a Washington oggi E i miei capezzolini vicini di ciò sono andati in Francia Che cosa ha detto? Controllate il lupo Il lupo è apposto Evan, leggi quello che c'è scritto per favore La coppia è esatta, leggila e basta Il comitato della Casa Bianca ha ricevuto il primo piletto da bacchio del ministro E io ballo il cia-cia-cia come una muta-cia-cia A me ne gusta fare il cia-cia-cia Scusate, forse ci sono alcune difficoltà Ecco, passiamo a un altro servizio Mille scuse Un giorno tornare il lancii Grazie a tutti Ci sono Di segno Oh, ecco Acc Jimmy Grazie per la visione!